Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. In A1 rallentamenti in direzione Bologna per traffico intenso tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello. Sulla FIPILI segnalato personale su strada tra Ponte della Est e Montopoli-Valdarno in entrambe le direzioni. Sul raccordo Siena-Firenze fare attenzione per scambio di carreggiata per lavori in vari punti in entrambe le direzioni. Sulla Statale 1 Aurelia in direzione Genova per lavori chiusa una corsia prima di Rosignano Marittimo e una tra Fonte Blanda e Alberese. Ricordiamo infine che fino alle 17 è in vigore lo sciopero del personale di bordo di Trenitalia. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!